Tra le carriere che ho pensato di traprendere da scronzo Ci sono il venditore di chimoni, il corista delle forno riviste La controfigura di Don Matteo che va in bicicletta Il corista di Bombanna e di tutti, sei figli dei Wenders e di Peter Tosh Vorrei avere due cellulari per farmi uno squillo quando ne perdo uno Vorrei avere due cellulari per farmi uno squillo quando ne perdo uno Il scopo della mia vita è far sentire più ricchi ritti Ma se il locale ha una capienza di venti persone spesso faccio sold out Potrei vendere zanzare in Africa ricavato dall'Unione dei Milioni Di centrini prodotti dagli utenti della cooperativa per cui lavoro Aiutiamoli a casa loro comprando le loro lauree Aiutiamoli a casa loro comprando le loro lauree Grazie mille a casa loro comprando le loro lauree La gente si lamenta sempre della vita Ma se arriva un cambiamento dice che gli ha rovinato la vita Potrei fare il vigile alle canale Sarebbe bello come il ponte di Cristo anche se meglio il cavallo di bisogno Aiutiamoli a casa loro comprando le loro lauree Aiutiamoli a casa loro comprando le loro lauree Aiutiamoli a casa loro comprando le loro lauree Vorrei avere due cellulari per farmi uno squillo quando ne perdo uno